Musica Capitano Price, qui 5 Delta 6, stiamo liberando l'area est verso la sala di sorveglianza. Ricevuto Delta 6, siamo giusto sopra di voi nei condotti, non sparate. Ricevuto signora. VNIMANIE! Voisca protivinica vashli v baso! Li apostarai! Voisca protivinica vashli v baso! Capitano Price, due Yankee 6 a rapporto. Abbiamo incontrato una notevole resistenza nell'ala sud. Il punto di accesso da noi utilizzato è stato bloccato. Passo. Ricevuto Yankee 6, raggiungete la squadra 2 e aiutateli a prendere la sala di sorveglianza. Passo. Ricevuto signore. Ripieghiamo per raggiungere la squadra 2. Passo e chiudo. Capitano Price, stiamo per inviarvi i codici necessari per l'autodistruzione dei missili in volo. Avete undici minuti prima che i missili raggiungano la costa orientale. Passo. Ricevuto. Ricevuto. Voii voici viumi in volo buracos! Potvrezioni a neografosi in buracos! Sì, rimangono 10 minuti. 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 Sì, rimangono. 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 Sì. Sì, rimangono. Sì, rimangono. Sì, rimangono. Sì, rimangono. Sì, rimangono. Sì, rimangono. qui in casa siamo al deposito veicoli e sotto il fuoco nemico veniamo su in ascensore attendete ciao signore mi piacerebbe troppo freddarlo quel zaka mettete in fila allora sempre che non ci trovi prima lui a a a a a a a Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.